Nicola Galloni e Team 21, vi portiamo con le interviste sul calare della notte. Nicola bentrovato, grazie di essere tornato qua alla 24 ore. Adesso vogliamo da te una sensazione di guida di questi kart, il cambio dal giorno alla notte, l'hai già fatto, hai già guidato, come si sono comportati, pilota espertissimo, conosci tantissimo il mondo rental, ci serve un'analisi tecnica dalla mattina fino alla prima parte della sera del comportamento dei kart e della pista di Iese. Ottimo, allora stamattina io ho fatto solamente il turno delle prove libere, dopo le qualificazioni e la partenza li hanno fatti i miei compagni, quindi diciamo che il kart nelle libere gomma nuova, il motore forse era un po' carente, anzi lo era, però a livello telaistico molto buono, si serviva bene, il punto giusto, anche molto divertente. Dopo ho fatto il turno praticamente al Crepuscolo, il primo kart così così, le gomme davanti erano leggermente strappate, l'abbiamo cambiato con un kart più performante, molto ma molto meglio, eravamo costanti, mi sono divertito e l'inserimento era buono, il motore era diciamo nella media, ma il comportamento comunque del kart era divertente, nella fine insomma, invece veniamo qua per divertirci. altrimenti siamo in Formula 1. Però sappiamo sempre da chi andare a farci fare un'analisi veloce, rapida, ma obiettiva ed efficace. Nicola Galloni per le Team 21. Grazie Nicola. Ciao a tutti.